Ho riconfermato ovviamente nel segno dell'esperienza amministrativa tre persone che avevano già fatto parte della giunta comunale in precedenza che sono Rossana Biagioni, Roberta Fabri e Roberto Reggiani e la grande novità della nostra giunta comunale è Matteo Sanchioni, una giovane di 27 anni che però ha una grande competenza e capacità. Abbiamo il dovere di portare a casa dei grandi progetti di rinnovamento sulla strategia turistica, sulla condivisione con gli operatori, sul rinnovamento del nostro centro commerciale naturale, sulla valorizzazione del territorio e credo ovviamente che questa giunta formata da queste quattro persone più ovviamente che saranno guidate da me e alla guida anche di assessorati comunque importanti come quelli dei lavori pubblici, delle attività economiche, della sicurezza dei cittadini, dei servizi sociali, quindi un grandissimo lavoro che sarà eseguito ed ho chiesto il massimo impegno a tutti i componenti della giunta comunale perché non potremmo lavorare se non H24 facendo dei grandissimi sacrifici unitamente dedicandoci al bene del nostro paese, quindi all'amore che ognuno di loro condivide per Gabizio Mare.